Ha avuto inizio oggi la campagna di ascolto sulla sanità locale del circolo PD Guido Faletra. Su una piattaforma il cui link si può trovare sui canali social del circolo, si accederà ai 24 quesiti del questionario sul parere dei cittadini rispetto alla struttura ospedaliera Sant'Elia. Da oggi è possibile compilare un questionario online promosso dal circolo Faletra per dire la propria sulla sanità nissena e sullo stato dell'ospedale Sant'Elia. 24 domande che consentiranno a tutti i cittadini che lo vorranno di esprimere un giudizio sulla qualità delle strutture, del lavoro del personale, sulla qualità delle comunicazioni dell'ASP e sulle necessarie iniziative da promuovere per riorganizzare una struttura ospedaliera di importanza straordinaria. Troppi cittadini nisseni si allontano dalla nostra provincia per ragioni sanitarie. Oggi è il tempo di invertire la rotta e di farlo con la partecipazione di tutti e tutti. Il questionario è disponibile sulla nostra pagina Facebook, basta cliccare un link e compilarlo. Fatelo perché è importante per tutte e per tutti. Sono i rappresentanti del Guido Faletra che già nelle scorse settimane avevano sottolineato l'importanza del diritto di ogni cittadino ad un sistema sanitario efficiente. E loro, non condividendo l'accorpamento di reparti strategici, hanno deciso di raccogliere e comprendere l'opinione dei cittadini su tempi d'attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie, alla qualità dell'assistenza sanitaria di base, alla pulizia e salubrità degli spazi fisici dell'ospedale e sulla chiarezza e trasparenza delle comunicazioni dell'ASP. Vogliono aprire un dibattito politico e lavorare a un'inversione di marcia, partendo dalle risposte dei cittadini.